Ma che bella questa erbetta verde e sono così contento Ciao ragazzi, qui è Bella Maccia e bentornati in un nuovo fantastico video dove taglieremo l'erba Lo scorso video dove tagliamo l'erba vi è piaciuto così tanto che ho avuto intenzione di portare questo Un gioco incredibile, quindi mi raccomando lasciate tanti mi piace e a tutti i non iscritti Che state aspettando? Iscrivetevi No! E' facile ed è gratuito, mi raccomando attivate la campanellina così non vi perdete nessun video di bella faccia che vi rallegra la giornata Che cosa dobbiamo fare? Siamo una ruspa, ok? E dobbiamo tagliare tutta... Dobbiamo tagliare tutta l'erba Come potete vedere tagliamo l'erba e la mettiamo dietro, ok? La mettiamo qua dietro perché poi la andiamo a vendere Perché più tagliamo l'erba più la vendiamo più... Perché c'è la mia ombra in mare? Guardate, c'è la mia ombra in mare, ma che cavolo è? Più la vendiamo più il nostro trattore taglia l'erba diventerà potente, eh? Ok, piglia, piglia tutta l'erba, ok? Il cart è full, ok? Quindi vendiamo, vendi tutto, ok? Poi andiamo upgrade, che possiamo upgradeare? Ok, quindi una rotella in più... Uuuuh, vedete? Me l'ha aggiunta lì ragazzi? Guardate che lama, che lama appuntita Ok, fantastico, c'è lo shop, vediamo che cosa c'è nello shop Ok, shop ovviamente non c'è perché ho disattivato la pubblicità, altrimenti sto zoco mi distruggeva l'anima Factory, non si può, mappa? No, vabbè, questa è tutta la mappa da completare Se siamo solo a livello 1 Ne hai di terra... Eh, di terra da tagliare, sì, vabbè Ne hai d'erba da tagliare, bella faccia, eh? Ok, gnie, gnie C'abbiamo una ricompensa? Ok, level up, fantastico Abbiamo sbloccato dei soldi perché abbiamo completato la ricompensa Ok, dobbiamo guidare per mille metri Fantastico, penso sia semplice Tagliamo anche questa! L'erba zalla dovrebbe darci molti più soldi, eh? Ok, taglia, tagliamo Forza, trattore, taglia erba Guardate che bella! È fatta benissimo quest'erba È così rilassante poi, ah... Sentite? Ah, mi rilassa un sacco, ragazzi, fare questi giochi Ok, torniamo a vendere! Torniamo a vendere, torniamo a vendere! Oh mio Dio, quanti soldi! Ma una valanga! Ok, allora, io direi Vediamo, questa è la velocità, ok Le rotelle, io direi da aumentare Vediamo, la velocità Poi, che possiamo fare? Direi la capacità Capacità Poi prendiamo, vediamo Eh, le rotelle che girano più veloci Ah no, più grandi! Guardate, sono diventate più grandi E ancora più rotelle Appuntite! Mamma mia! Il mio camion sta diventando tanta roba, eh! Ok, pigliamo questo, vediamo Oh mamma, guardate quanto taglia veloce adesso, ragazzi! Taglia velocissimo Miau 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 Ok, ok Raccogliate Che è? Che è successo? Map Possiamo andare nella mappa Abbiamo sbloccato la possibilità Di andare in un'altra mappa Piglia tutto Ah, perché ho raggiunto tre stelle Guardate! Ho raggiunto tre stelle Sì, però io devo tagliare tutto bene Devo finire il lavoro Il lavoro va finito Non è semplice pilotare sto coso, ragazzi Eh, va da tutte le parti Mamma mia Ok Il kart è full Allora, ho fatto mille metri Ok Poi devo fare cinque upgrade Ok Altri soldi Mamma mia Abbiamo una marea di soldi, ragazzi Abbiamo una marea di soldi Ok, quindi andiamo a vendere tutto Prrrr Ok Vediamo Ok, claim Dovamo vendere trecento balle di fine Se l'abbiamo fatta E direi di andare a vedere la mappa Cosa c'è? Ok Abbiamo finito il primo stage Due Vamos Ok No, grazie No, no Non voglio niente Ok Vediamo Upgrade Vediamo Io direi Che possiamo fare? Oh, ma le robe costano di più Vediamo Upgradiamo qua Cos'era sto upgrade? Ok Più largo forse Vediamo Sì, più largo Così prendo più balle di fieno Ok Poi vediamo Io direi più potenti Le rotelle Sì, così più rotelle Vai Mamma mia Il nostro camion Come va ragazzi? Come va? Oh, ma c'è l'erba rossa Guardate quanto va veloce Ok L'erba rossa ci mette molto più tempo a tagliarla L'erba verde ormai è come se fosse veramente un grissino Ok, taglia, taglia, taglia Che ho trovato? Che? Cos'è? Get Sì, sì Sì Boost Boost Oh mio Dio Guardate che boost No vabbè Il kart è full Ma che cavolo è? Avete visto che roba? Nuovo livello sbloccato Vendi, 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 vendi No, no, no Dobbiamo muoverci Perché non ce l'ho all'infinito questo bonus Muoviti, 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 muoviti Muoviti No, mi è andato via quello Pensavo non sparisse Maledetto Guardate quanto sto tagliando Ok, il kart è full Oh, c'è un'altra roba qua Figliamolo Sì Get Grande No, vabbè Ragazzi Ho sbloccato il serbatoio infinito Ho sbloccato il serbatoio No, no, no Vieni qui, qui, qui Questo Get Sì No, vabbè Ma quante ne ho? Ragazzi Allora non sto capendo niente Non riesco nemmeno più a parlare Oh, il serbatoio infinito Guardate che roba Oh, addirittura Che cos'è? Il coso che attira il fieno Il magnete No, questo ce l'abbiamo usato No, no No, non lo voglio No Via, non lo voglio Abbiamo il magnete Ma quanto fieno abbiamo ragazzi Ne abbiamo una marea Andiamo a vendere tutto Oh, mio Dio Abbiamo completato Guardate il kart No, vabbè Ma che è? Ok, vendi Quanti soldi che abbiamo fatto Ok, ottimo Io direi di fare altri upgrade Vediamo Andiamo di qua Vediamo, mettiamo Questo più largo Più veloce Più veloce E più carico Ok Tanta roba ragazzi Allora vediamo Claim Ok Poi Direi di andare in map Perché abbiamo sbloccato il livello 3 Ah, tagliare l'erba È proprio fantastico Ok Qui Eh, ce n'è un bel po', eh Ce n'è un bel po', eh Che è sta roba? Cos'è? Chi è? Drone Un drone? No, vabbè Abbiamo addirittura il drone Ma tagli l'erba? Che fa sto drone? Dove va? No, va a vendere Non so Ho capito No, vabbè Delivery cart Ragazzi Quello lì va a depositare Tutte le balle di fieno Guardate C'è l'erba viola Ma mi prendi in giro? C'è l'erba viola Questo? Ok C'abbiamo Uh, guardate che roba Vado super veloce Ok, questo? No, non posso prenderlo No, 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 no C'è il bonus 23 secondi Le lame super brillanti Ok, tagliamo qua Tagliamo qua Tagliamo qua No, vabbè ragazzi Guardate le lame Sono super Guardate che roba Avevo il bonus Eh, non posso più prenderlo Cavoli I primi erano gratis Aspetta, aspetta Facciamo così Pigliamolo Perché tanto li ho Ne ho 20 Ok, serbatoio infinito Ragazzi Serbatoio infinito abbiamo, eh Ok, prendi, prendi, prendi Prendi tutto, prendi tutto Prendi tutto Che è sta roba? Che è? Che è? Vabbè, spendiamo Spendiamo Mamma mia Guardate che roba Quanto taglio Quanto taglio Taglia, taglia tutto Taglia tutto Forse non mi conveniva Spendere tutti i miei soldi, eh Forse non mi conveniva Ok, tieni Tieni Vai depositare tutto Bravissimo Andiamo da questa parte Se sto tagliando tutto ragazzi È incredibile Guardate che roba Vai, vai Raccogli, raccogli, raccogli Raccogli, raccogli Dai che abbiamo il serbatoio infinito Dai che abbiamo Che è sto coso? Ma niente Eh, non ci conviene Perché il serbatoio adesso finisce Dai, 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 dai Dai, prossima mappa Sbloccata Ottimo Allora facciamo così Diamo tutto al drone Vai, vai bello Ottimo Vai, vai, vai Vai a vendere tutto Ancora non abbiamo sbloccato un cavolo, eh Siamo solo a una stella Na, tieni, ti? No, grazie Cioè ragazzi Ho tagliato l'erba malissimo Ho tagliato l'erba malissimo Cavolo E comunque fatica ancora a tagliare questa rossa Guardate Cioè ho tagliato l'erba malissimo Ma si potrebbe la faccia? Ok, io direi che questo lo usiamo dopo Dobbiamo tenere tutte le gemme Dobbiamo tenerle tutte per le mappe più difficili Ok, il kart è pieno Andiamo a vendere, forza Sì, però certo che non è che posso solo tagliare Devo anche raccogliere, eh Guardate quanto taglio veloce l'erba normale adesso ragazzi La taglio super velocissimo Ok, ottimo Torniamo a casa Allora vendiamo Io direi di fare un upgrade incredibile adesso, eh Vediamo Io direi che ci serve Più carico Più largo Più potenza delle lame Ancora più potenza E più lame Mamma mia Mamma mia Guardate Stiamo creando un trattore incredibile Stiamo creando Ok, abbiamo delle missioni Più 500 Ok, boost Così Ottimo Fantastico Vai, tagliamo Mamma mia Mamma mia È burro È diventato burro ormai Questa viola ancora è difficilissimo da tagliare ragazzi Ci metto veramente tanto, eh Ok, abbiamo già il serbatoio pieno Ok, andiamo qua a dare al drone 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 Dove cavolo è il mio drone 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 Ecco, bravissimo Vai a consegnare i soldi, va Guardate adesso quanto taglio veloce l'erba rossa E guardate quanto ci metto con quella viola Mamma mia Ci metto una marea di tempo ragazzi Ci vuole tantissimo Ok ragazzi Abbiamo sbloccato l'accesso alla nuova mappa Io direi di prendere un pochettino di fino che abbiamo lasciato qua Perché altrimenti sono soldi sprecati questi E a noi ci servono per potenziare il nostro super trattore Ok, abbiamo ripulito tutto per bene Andiamo forza Andiamo a vendere le ultime cose Vendi, vendi, vendi Abbiamo una marea di soldi ragazzi Abbiamo una marea di soldi Adesso upgradiamolo ancora di più Vediamo Cosa possiamo fare Io direi di prendere più potenza delle rotelle Ok, più larghe Guardate che roba, guardate che roba Ok 1.400 Poi Niente Abbiamo potenziato al massimo per ora il nostro trattore E andiamo a livello 4 Ok, sono curioso Andiamo forza Vediamo che tipi di erba ci sono qua Ok C'è il drone Guardate che bello Tutta rossa Mamma mia Ce n'è tantissima Tutta viola Mamma mia Però la taglio subito La taglio velocissimo ragazzi Guardate che roba Mamma mia Guardate quanto la taglio La taglio Iper veloce Taglia 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 Ok Qui è il momento Di prendere dei bonus Ci sono Qui è il momento Qui è il momento Di prendere Ecco anche questo Vai Preso Si 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 Serbatoio infinito Mi serve però Vai grande Oh mio dio Adesso si Adesso si che facciamo Guardate che roba Taglia 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 il più possibile Mamma mia Quanti punti che faccio Adesso ragazzi Una marea Mamma mia Il serbatoio super pieno Ok Cerchiamo di tagliare Tutta l'erba possibile Taglia 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 questa Che se ne da molto di più Vai 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 Mamma mia ragazzi Divento ricco Divento ricco Divento ricco Cinque secondi Vai vai taglia 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 Tre Due Uno Mamma mia E' pieno E' pieno Andiamo a vendere tutto Guardate Ne abbiamo una marea Ne abbiamo una marea Vendi tutto Mamma mia Quanti soldi Più di tremila Più di tremila Allora facciamo così Chiudi Perché c'ho una ricompensa Prendiamo Mille Tanta roba Ok Vai Vediamo Potenziamolo ancora un po' Ma ci possiamo aggiungere Io direi adesso Più veloce Più questo Più carico E più carico Mamma mia Abbiamo creato un trattore incredibile Ragazzi io spero tanto Che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere Se volete Il continuo Ah non si può più usare questo Fatemi sapere Se volete il continuo Di questo incredibile gioco Perché dobbiamo finirlo Ci sono tantissimi altri livelli Da brava C'è tutto E ci vediamo presto In un nuovo video Ciao 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 Grazie a tutti